Benvenuti all'edizione di Scienze in Frequenza di Radiodamma 5. Allarme dell'Istituto Superiore di Sanità britannico. Aumenta il numero di batterie resistenti a qualunque antibiotico. Ogni anno in Europa circa 25.000 persone muoiono a causa di questi super batteri resistenti a tutto. Negli anni 80 l'industria farmaceutica produceva un nuovo antibiotico all'anno. Oggi invece le novità sono pochissime. Questo sarà in futuro un grave problema per la salute pubblica dell'Italia e del mondo. Per la prima volta una fotocamera riesce a catturare l'immagine di oggetti nascosti tra le fiamme. La tecnica è stata messa a punto dall'Istituto Nazionale di Ottica di Firenze e Napoli. La nuova fotocamera ricostruisce la scena tramite un fascio di raggi infrarossi e può rivelare anche oggetti di dimensione umana in movimento. Sarà impiegata in futuro dai vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Traffico intenso intorno alla Terra La cometa Pan-Stars, che ha raggiunto il picco di luminosità nei giorni scorsi e che comincia a perdere splendore allontanandosi dal Sole, sarà visibile fino alla fine del mese. La cometa di Pasqua, come è stata denominata, sarà in buona compagnia. Dopo gli asteroidi di A14, che ci ha sfiorato in febbraio ed enzo del 10 marzo scorso, altri tre asteroidi transiteranno nei pressi del nostro pianeta, nei cieli primaverili. Gli esperti rassicurano, non c'è da preoccuparsi. Il più vicino dei tre, il cui passaggio è previsto in aprile, transiterà a circa un milione e mezzo di chilometri, quasi quattro volte la distanza Terra-Luna. Un gruppo di paleontologi canadesi e inglesi ha scoperto in questi giorni resti fossili di un antenato del cammello, vissuto circa 3 milioni di anni fa nell'isola canadese di Ellesmere. Il ritrovamento potrebbe aiutarci a capire come questi animali riescano a resistere lunghi periodi senza acqua. Nell'isola dove vivevano, era infatti difficile trovarne di liquida durante l'inverno, quando tutto è ghiacciato. Questa capacità avrebbe permesso loro di migrare poi verso sud e adattarsi ai climi molto aridi del deserto. La ditta Enovia ha brevettato due prototipi di bici elettriche. I cittadini potranno spostarsi in città senza la preoccupazione di esaurire le batterie, perché il movimento produrrà l'energia necessaria. Il nuovo brevetto non aumenterà le emissioni di anidride carbonica, che causa dell'aumento della temperatura globale e dello scioglimento dei ghiacci. Concludiamo con una curiosità. Vi siete mai chiesti cosa sia quel fumo bianco che si sparge per Roma al grido abemus papam? E cosa accade invece quando una nuvola nera lascia in trepidante attesa i fedeli di tutto il mondo? Un po' di chimica in Vaticano ci spiega tutto. Un mix di zucchero, resina e perclorato di potassio, ed ecco a voi l'erede di Pietro. Zolfo, nero fumo e di nuovo perclorato e rimarrete con la vostra curiosità. Sono queste le ricette seguite dal conclave del 2005 che è l'S Benedetto XVI, sotto l'occhio vigile di un sistema di controllo elettronico molto sofisticato che gestisce la colorazione e l'uscita del fumo da un'unica canna fumaria. Occhio al comignolo dunque! Dai microfoni di Scienza in Frequenza è tutto, a risentirci alla prossima edizione, domani alle 17, sempre su Radio Gamma 5. Benvenuti al primo appuntamento scientifico con Radio Master. Ecco le notizie scelte per voi in questa settimana. Ultime notizie dal pianeta Marte. Sembra che Marte sia stato un ambiente potenzialmente adatto alla vita. La sonda Curiosity della NASA ha trovato composti che si formano in presenza di acqua e attività biologica. Paul Maffei, un responsabile del progetto, ha commentato La gamma di ingredienti chimici che abbiamo trovato è impressionante e indicano una possibile fonte di energia per microrganismi. Ora Marte passerà dietro al Sole e questo impedirà le trasmissioni. Una doccia fredda per gli scienziati che dovranno attendere per ultimare le analisi. Nuova ipotesi sulle cause di terremoti e vulcani. L'uranio e il torio sono la causa di terremoti e vulcani, lo annunciano i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'uranio e il torio sono due elementi chimici radioattivi responsabili della produzione dell'energia termica nel mantello sotto la crosta terrestre. Troviamo gli stessi elementi anche nelle meteoriti cadute sulla Terra e il loro studio è utilissimo per le ricerche sull'origine del Sistema Solare. Moria dei delfini sulle coste del Tirreno Sale 77 il bilancio del ritrovamento di esemplari spiaggiati di Stenella striata, una specie di delfino con strisce scure ai lati del corpo. Il dato è stato registrato dalla Rete Nazionale Spiaggiamenti Mammiferi del Ministero dell'Ambiente sulle coste del Tirreno. La metà dei delfini finora esaminata è risultata infetta dal virus del morbillo. Già in passato si sono verificate due gravi epidemie nel Mediterraneo, l'ultima nel 2006. I ricercatori dicono che servono altre analisi per comprendere meglio le cause del fenomeno. Le lenti del futuro Le notizie potranno essere visualizzate direttamente sulle lenti degli occhiali, a permetterlo gli occhiali di Google Glass. I lettori potranno così conoscere le ultime notizie del loro quotidiano preferito sugli occhiali che indossano. Basterà poi toccare una lente per ascoltare l'articolo completo. Questa è solo una delle applicazioni pensate dagli sviluppatori di questi occhiali presentati in Texas qualche giorno fa. Stop allo stress con palazzi più bassi. Si può essere sereni e rilassati anche in città. I ricercatori hanno mostrato a circa 250 persone alcuni modelli di possibili città realizzate al computer. Sembra che l'altezza degli edifici, il profilo e la loro disposizione nello spazio influenzino il benessere psicofisico degli abitanti. Ecco perché, in futuro, le città potrebbero avere palazzi bassi e di forme diverse per facilitare relax e tranquillità. Alessia e Enrico, che hanno presentato in studio, ringraziano gli ascoltatori per averci seguito. La redazione di Radio Master vi dà appuntamento al secondo aggiornamento, tra un'ora.